Ben ritrovati con Decoder, ora ci occupiamo di San Giovanni XXIII, nel giorno in cui ricorre la sua data di nascita. Ringraziamo sin da ora per la disponibilità Donizio Bolis, direttore della Fondazione Papa Giovanni XXIII e per prima cosa cerchiamo di ricordare i periodi in cui San Giovanni XXIII ebbe a che fare in qualche modo anche con altre pandemie. Sì, possiamo dire che in due occasioni almeno Roncalli fa esperienza di quella che oggi chiamiamo pandemia o epidemia, comunque con virus diffusi e mortali. Forse il momento più famoso è in occasione della cosiddetta Spagnola, la pandemia che è scoppiata negli ultimi anni della Prima Guerra Mondiale e Roncalli in quel periodo era cappellano militare negli ospedali bergamaschi dove si accoglievano i soldati provenienti dal fronte e in diverse occasioni cura malati che hanno contratto questo virus. Ma forse l'episodio più significativo è quando lui sta accanto alla sorella Enrica, che aveva soltanto 25 anni, la veglia per un'intera settimana, nell'ottobre del 1918, fino a quando la accompagna la morte. Ecco, proprio in quelle giornate così dolorose, lui scrive alcune note davvero commoventi, strazianti sull'affetto che lo legava a questa sorella e che la pandemia si è portata via. Quindi questo è forse il momento, diciamo, più toccante del rapporto di Roncalli con l'esperienza della pandemia. Ce n'è poi un altro, altrettanto significativo, negli stessi anni. Non è forse una vera e propria pandemia, ma era un'altra malattia molto contagiosa, la tubercolosi, di cui si ammalavano anche, direi, soprattutto i soldati che erano stati al fronte o prigionieri degli austriaci. E quando venivano rispediti in Italia spesso dovevano trascorrere lunghi mesi in sanatorio. Ecco, in questa occasione Roncalli, cappellano militare, si offre volontariamente per assistere spiritualmente e anche materialmente questi soldati, sapendo di correre un grosso pericolo, quello di contagiarsi lui stesso. Anche qui abbiamo delle lettere molto belle dove lui dice, no, non sono un eroe, ma il mio ministero mi chiama a servire il Signore presente negli ammalati. Questi sono, diciamo, due episodi legati a due pandemie o comunque malattie contagiose. A questo si potrebbe aggiungere anche, diciamo, il rapporto di Roncalli con una terza tipologia di morbo, il tifo. In alcune lettere ai familiari lui manifesta la paura che il tifo si intrufoli alla colombera, alla casa dei Roncalli, facendo vittime come potrebbe fare la volpe in un pollaio. Quindi diverse sono le circostanze che hanno costretto Roncalli a misurarsi con queste malattie così contagiose e quindi che ci riportano in qualche modo alla contemporaneità. Ma come ha reagito Roncalli di fronte al rischio di essere contagiato? Come dicevo prima, da cappellano il futuro Papa Giovanni offre la massima disponibilità ad assistere i malati senza troppi riguardi per la propria salute. Questo non significa ovviamente che sia uno sconsiderato, però mette sempre davanti le esigenze del suo ministero alle preoccupazioni per la propria salute. Quindi la reazione non è una reazione spavalda, però è una reazione coraggiosa di uno che non si lascia appunto intimorire dalle possibili conseguenze. Bisogna però ricordare che Roncalli, quando in particolare scrive a casa i suoi familiari, raccomanda sempre di stare attenti, di non esporsi inutilmente al pericolo, considerando che la salute fisica è un grande dono del Signore da non sciupare. Per esempio in una lettera ai genitori nel 1931 dice «La salute è un gran dono del Signore che va tenuto con cura, abusarne non giova, si abbiano dunque ogni riguardo di guarire bene e perfettamente». Sono diverse le lettere, ripeto, soprattutto ai familiari, dove Roncalli con molto equilibrio, da una parte non è un salutista che mette la salute al primo posto, ma d'altra parte è anche una persona con la testa sulle spalle, soprattutto un credente che considera la salute fisica un grande dono del Signore da conservare. Ma qual è stato l'atteggiamento di Giovanni XXIII nei suoi lunghi anni di ministero di fronte agli ammalati, ma anche di fronte a medici e infermieri? Scorrendo tutta la vita di Roncalli possiamo dire che i malati sono stati sempre in cima alle sue preoccupazioni, forse anche perché quella esperienza a cui facevo riferimento prima come cappellano militare negli ospedali lo ha segnato poi anche per gli anni successivi. I malati sono al centro della sua attenzione anche all'inizio del suo pontificato. Ricordo, ma tutti sappiamo, che una delle primissime visite, delle primissime uscite del nuovo Papa Giovanni XXIII dal Vaticano è per recarsi all'ospedale Bambin Gesù, ospedale pediatrico. Ma a chi si meravigliava di questo gesto che allora sembrava qualcosa di eccezionale, Roncalli rispondeva che durante tutta la sua vita aveva cercato di visitare, di accudire, comunque di mostrare la sua attenzione verso i malati e non vedeva perché non dovesse farlo anche da Papa. Quindi i malati sono in cima alle sue preoccupazioni pastorali anche perché non si dimenticherà mai che visitare gli ammalati è una delle sette opere di misericordia corporale, opere di misericordia che per Roncalli sono un po' la sintesi del Vangelo. Ma interessante è anche vedere le modalità, lo stile con cui Roncalli si avvicina ai malati. Per esempio dice spesso che per correre al capezzale di un malato lui è disposto a lasciare tutti gli altri impegni perché riconosce in questo una priorità non solo ovviamente per confortare i malati ma egli ritiene che nella malattia il soggetto si mette in discussione quindi nella malattia c'è in gioco anche spesso un discorso spirituale di salvezza dell'anima come lui si esprime. La sua visita agli ammalati non è mai generica. Ciò che mi ha sempre fatto impressione leggendo le cronache delle visite di Roncalli negli ospedali anche prima di diventare Papa è il fatto che non si limita a stare sulla porta come facevano altre figure e a dare una benedizione generica a tutti quelli che sono in questi grandi stanzoni degli ospedali degli anni 40-50. Ma la cosa particolare è che passa a salutare ciascuno questa attenzione al singolo. Quindi sì, la benedizione a tutti ma il saluto, la carezza al capezzale di ciascun malato. Questa è un'attenzione che non va passata sotto silenzio. Ancora un altro aspetto che mi preme sottolineare è che spesso Roncalli paga di tasca sua le cure ai malati che non possono permettersi appunto di curarsi. Allora anche il sistema sanitario non era, diciamo così, alla portata di tutti come oggi. Quando per esempio è delegato apostolico in Turchia e Grecia in diverse, in molte circostanze paga il soggiorno in ospedale a preti e a laici che non avevano la possibilità appunto di mantenersi in cura. Ecco, quindi non è soltanto così un atteggiamento paternalista o spiritualista, ma come sempre Roncalli è molto concreto e questa carità si fa concreta. Un ultimo cenno meritano le espressioni che si trovano talvolta nei suoi scritti di riconoscenza, di stima per i medici, gli infermieri che curano e assistono i malati. Forse anche istruito dalla sua esperienza di sergente di sanità nei primi tempi della Prima Guerra Mondiale. Lui stesso, questo è un episodio, è un particolare curioso, lui stesso quando è nunzio a Parigi, in Francia, in quegli otto anni, sceglie per il giorno di Natale, il pomeriggio, di festeggiare il Natale, il mattino, con il grande pontificale solenne della Messa e il secondo facendo visita a malati o anziani delle case di riposo di Parigi e servendo lui stesso a Messa questi malati, questi poveri. Ecco, mi sembra anche questo un segno bello di grande delicatezza. E ci sono incontri particolari con persone ammalate che meritano di essere ricordati? Sarebbero tantissimi gli episodi e noi abbiamo la fortuna che nelle sue agende Roncalli segna sempre le visite fatte agli ammalati. Certo, la più nota, quella anche sotto i riflettori di tutto il mondo, è stata la visita al bambino Gesù nel Natale del 1958. Ma, per esempio, importante e anche inedita allora la visita che fece nel settembre del 1959 a un suo compagno di seminario che era infermo, Monsignor Giulio Belvederi. Quindi non dobbiamo pensare che allora fosse così facile, così scontato, uscire dal Vaticano per andare a trovare uno ammalato in un ospedale o anche in casa sua. Ancora molto toccante l'incontro, l'udienza, la breve udienza che Papa Giovanni concesse a una bambina americana malata di leucemia che poi sarebbe morta di lì a poco. Ma davvero la galleria di questi incontri con i malati è lunghissima. Forse ancora merita di essere ricordato il rapporto con i malati, morenti, i giovani soldati. Quando lui era cappellano militare, ci sono nelle sue agende lunghe pagine dove registra i colloqui avuti con questi giovani che di fatto poi molti dei quali muoiono. Quindi non sono solo malati ma anche moribondi. Qui si vede tutta l'umanità di Roncalli e anche tutta la sua fede. E questo è un momento in cui ci si prepara al Natale e ci si attrezza anche al nuovo anno magari con un calendario in cui sono ricordati i principali momenti della vita di San Giovanni XXIII. Ma allora come avete impostato il nuovo calendario? Da qualche anno ogni anno editiamo come Fondazione Papa Giovanni XXIII il calendario giovanneo dove mettiamo a fuoco un tema e quest'anno tenendo conto anche del tempo che stiamo vivendo ci è piaciuto mettere in evidenza il rapporto di Papa Giovanni con le opere di misericordia. Si sente l'esigenza di vedere anche qualche esempio positivo di persone che si sono prese cura. Ecco, Papa Giovanni si è preso cura di tante forme di povertà attraverso le opere di misericordia. Quindi attraverso questo strumento molto semplice che può entrare in tutte le case c'è la possibilità anzitutto di vedere alcune fotografie inedite e anche molto carine, molto belle di Roncalli mentre appunto si accinge lui stesso a essere operatori di misericordia. Poi ci sono alcuni brevi brani tratti dai suoi scritti e questo dà la possibilità di conoscere in modo, ripeto, molto semplice uno degli aspetti più belli della spiritualità di Papa Giovanni. Come al solito nel calendario c'è posto anche per un breve scritto del nostro vescovo, Francesco Beschi, che è sempre intonato al tema della carità. Inoltre le illustrazioni si arricchiscono anche per alcune serie di francobolli usciti proprio negli anni del pontificato di Papa Giovanni, sempre sul tema della carità e delle opere di misericordia. Il calendario è disponibile in tutte le edicole della città e della provincia di Bergamo grazie anche al servizio di distribuzione della ditta DIF oppure può essere richiesto alla Fondazione Papa Giovanni XXIII. Grazie. 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 Grazie.